fu secondo che io già intesi in perugia un giovane il cui nome era andreuccio di pietro cozzone di cavalli il quale avendo inteso che a napoli era buon mercato di cavalli messisi in borsa cinquecento fiorin d'oro non essendo mai più fuori di casa stato con altri mercatanti là se nandò dove giunto una domenica sera in sul vespro dallo ste suo informato la seguente mattina fu in sul mercato e molti ne vide ed assai ne gli piacquero e di più e più mercato tenne né di uno potendosi accordare per mostrare che per comperar fosse siccome rozzo e poco cauto più volte in presenza di chi andava e di chi veniva trasse fuori questa sua borsa dei fiorini che aveva ed in questi trattati stando avendo esso la sua borsa mostrata avvenne che una giovane ciciliana bellissima ma disposta per piccol pregio a compiacere a qualunque uomo senza vederla egli passò appresso di lui e la sua borsa vide e subito secco disse chi starebbe meglio di me se quegli denari fosser miei e passò oltre era con questa giovane una vecchia similmente ciciliana la quale come vide Andreuccio lasciata oltre la giovane andare affettuosamente corse ad abbracciarlo il che la giovane veggendo senza dire alcuna cosa da una delle parti la cominciò ad attendere Andreuccio alla vecchia rivolto si è conosciutala le fece gran festa e promettendogli essa di venire a lui all'albergo senza qui vi tenere troppo lungo sermone si partì ed Andreuccio si tornò a mercatare ma niente comperò la mattina la giovane che prima la borsa d'Andreuccio e poi la contezza della sua vecchia con lui aveva veduta per tentare se modo alcuno trovar potesse a dovere avere quegli denari o tutti o parte cautamente incominciò a domandare chi colui fosse o donde e che qui vi facesse e come il conoscesse la quale ogni cosa così particolarmente dei fatti d'Andreuccio le disse come avrebbe per poco detto egli stesso siccome colei che lungamente in Sicilia col padre di lui e poi a Perugia dimorata era e similmente le contò dove tornasse e perché venuto fosse la giovane pienamente informata e del parentato di lui e dei nomi al suo appetito fornire con una sottil malizia sopra questo fondò la sua intenzione e da casa tornata si mise la vecchia in faccenda per tutto il giorno a ciò che ad Andreuccio non potesse tornare e presa una sua fanticella la quale essa assai bene a così fatti servigi aveva ammaestrata in sul vespro la mandò all'albergo dove Andreuccio tornava la qual qui vi venuta per ventura lui medesimo e solo trovò in sulla porta e di lui stesso il domandò alla quale dicendole egli che era adesso essa tiratolo da parte disse messere una gentil donna di questa terra quando vi piacesse vi parleria volentieri il quale leggendola tutto postosimente parendogli essere un bel fant della persona s'avvisò questa donna dover di lui essere innamorata quasi altro bel giovane che egli non si trovasse allora in napoli e prestamente rispose che era apparecchiato e domandò laddove e quando questa donna parlargli volesse a cui la fanticella rispose messere quando di venir vi piaccia e la battende in casa sua Andreuccio presto senza alcuna cosa dir nell'albergo disse orvia mettiti avanti io ti verrò presto la onde la fanticella a casa di costei il condusse la quale dimorava in una contrada chiamata malpertugio la quale quanto sia onesta contrada il nome medesimo il dimostra ma esso niente di ciò sapiendo né suspicando credendosi in uno onestissimo luogo andare e ad una cara donna liberamente andata la fanticella avanti se ne entrò nella sua casa e salendo su per le scale avendo la fanticella già la sua donna chiamata e detto ecco Andreuccio la vide in capo della scala farsi ad aspettarlo. Ella era ancora assai giovane di persona grande e con bellissimo viso vestita ed ornata assai orrevolmente alla quale come Andreuccio fu presso essa incontrogli da tre gradi discese con le braccia aperte ed avvigliatogli il collo alquanto stette senza alcuna cosa dire quasi da soperchia tenerezza impedita poi lagrimando gli basciò la fronte e con voce alquanto rotta disse oh Andreuccio mio tu si il benvenuto esso maravigliandosi di così tenere carezze tutto stupefatto rispose madonna voi siate la ben trovata. Ella appresso per la man presolo suso nella sua sala il menò e di quella senza alcun'altra cosa parlare con lui nella sua camera se ne entrò la quale di rose di fiori d'aranci ed altri odori tutta oliva laddove egli un bellissimo letto incortinato e molte robe su per le stanghe secondo il costume di là ed altri assai belli e ricchi arnesi vide per le quali cose siccome nuovo fermamente credete lei dovere essere non men che grandonna e postisi a sedere insieme sopra una cassa che a piede il suo letto era così gli cominciò a parlare Andreuccio io sono molto certa che tu ti maravigli e delle carezze le quali io ti fo e delle mie lagrime siccome colui che non mi conosci e per avventura mai ricordar non mudisti ma tu dirai tosto cosa la quale più ti farà forse meravigliare siccome è che io sia tua sorella e dicoti che poiché dio ha fatto tanta grazia che io anzi la mia morte ho veduto alcuno dei miei fratelli come che io desideri di vedervi tutti io non morrò a quella ora che io consolata non muoia e se tu forse questo mai più non udisti io te lvo dire Pietro mio padre e tuo come io credo che tu abbi potuto sapere dimorò lungamente in palermo e per la sua bontà e piacevolezza vi fu ed è ancora da quegli che il conobbero amato assai ma tra gli altri che molto l'amarono mia madre che gentil donna fu ed allora era vedova fu quella che più l'amò tanto che posta giù la paura del padre e dei fratelli e di suo onore in tal guisa con lui si dimesticò che io ne nacqui e sonne qual tu mi vedi poi sopravenuta cagione a Pietro di partirsi di palermo e tornare in perugia me con mia madre e piccola fanciulla lasciò né mai per quello che io sentissi più né di me né di lei si ricordò di che io se mio padre stato non fosse forte irriprenderei avendo riguardo alla ingratitudine di lui verso mia madre mostrata lasciamo stare all'amore che a me come a sua figliuola non nata ad una fante né di vil femmina dovea portare la quale le sue cose e se parimente senza sapere altrimenti chi egli si fosse da fedelissimo amor mossa rimise nelle sue mani ma che le cose malfatte e di gran tempo passate sono troppo più agevoli a riprender che ad emendare la cosa andò pur così egli mi lasciò piccola fanciulla in palermo dove cresciuta quasi come io mi sono mia madre che ricca donna era mi diede per moglie ad un da gergenti gentile uomo e da bene il quale per amor di mia madre e di me tornò a stare in palermo e quivi come colui che è molto guelfo cominciò ad avere alcuno trattato col nostro re carlo il quale sentito dal re federigo prima che daregli si potesse effetto fu cagione di farci fuggire di cicilia quando io aspettava essere la maggior cavalleressa che mai in quella isola fosse dove prese quelle poche cose che prender potemmo poche dico per rispetto alle molte le quali avevamo lasciate le terre e i palazzi in questa terra ne rifugimmo dove il re carlo verso di noi troviamo si grato che ristoratici in parte li danni li quali per lui ricevuti avevamo e possessioni e case ci ha date ed ha continuamente al mio marito e tuo cognato che è buona provvisione siccome tu potrai ancora vedere ed in questa maniera son qui dove io la buona mercè di dio e non tua fratel mio dolce ti veggio e così detto da capo il riabbracciò ed ancora teneramente lagrimando gli basciò la fronte Andreuccio udendo questa favola così ordinatamente così compostamente detta da costei alla quale in nino atto moriva la parola tra i denti né balbettava la lingua e ricordandosi esser vero che il padre era stato in palermo e per sé medesimo dei giovani conoscendo i costumi che volentieri amano nella giovanezza e veggendo le tenere lagrime gli abbracciari e gli onesti basci ebbe ciò che la diceva più che per vero e poscia che la tacque le rispose madonna egli non vi dè parer gran cosa se io mi meraviglio perciò che nel vero o che mio padre perché che egli se l facesse di vostra madre e di voi non ragionasse giammai o che se egli ne ragionò a mia notizia venuto non sia io per me e niuna conoscenza aveva di voi se non come se non foste ed è mi tanto più caro l'avervi qui mia sorella trovata quanto io ci sono più solo e meno questo sperava e nel vero io non conosco uomo di si alto affare al quale voi non doveste essere cara non che a me che un piccol mercatante sono ma d'una cosa vi priego mi facciate chiaro come sapeste voi che io qui fossi al quale e la rispose questa mattina melfè sapere una povera femmina la qual molto meco si ritiene perciò che con nostro padre per quello che la mi dica lungamente ed in palermo ed in perugia stette e se non fosse che più onesta cosa mi parea che tu a me venissi in casa tua che io a te nell'altrui egli a gran pezza che io a te venuta sarei appresso queste parole e la cominciò distintamente a domandare di tutti i suoi parenti nominatamente alla quale di tutti Andreuccio rispose per questo ancora più credendo quello che meno di credere gli bisognava essendo stati i ragionamenti lunghi ed il caldo grande e la fece venire greco e confetti e fe dar bere ad Andreuccio il quale dopo questo partir volendosi per ciò che ora di cena era in una guisa il sostenne ma sembianti fatto di forte turbarsi abbracciando il disse ai lassame che assai chiaro conosco come io ti sia poco cara che a pensare che tu si con una tua sorella mai più da te non veduta ed in casa sua dove qui venendo smontato esser dovresti e vogli di quella uscire per andare a cenare all'albergo di vero tu cenerai con esso meco e perché mio marito non ci sia di che forte mi grava io ti saprò bene secondo donna fare un poco d'onore alla quale Andreuccio non sapiendo altro che rispondersi disse io vo cara quanto sorella si deve avere ma se io non ne vado io sarò tutta sera aspettato a cena e farò villania ed ella allora disse l'ho dato sia il dio se io non ho in casa per cui mandare a dire che tu non si è aspettato benché tu faresti assai maggior cortesia e tuo dovere mandare a dire ai tuoi compagni che qui venissero a cenare e poi seppure andare te ne volessi ve ne potreste tutti andar di brigata Andreuccio rispose che dei suoi compagni non volea quella sera ma poi che pure a grado l'era di lui facesse il piacer suo ella allora fe vista di mandare a dire all'albergo che egli non fosse atteso a cena e poi dopo molti altri ragionamenti postisi a cena e splendidamente di più vivande serviti astutamente quella menò per lungo infino alla notte oscura ed essendo da tavola levati ed Andreuccio partir volendosi ella disse che ciò in iuna guisa sofferrebbe perciò che Napoli non era terra da andarvi per entro di notte e massimamente un forestiere e che come che egli a cena non fosse atteso aveva mandato a dire così aveva dell'albergo fatto il similiante egli questo credendo e dilettandogli da falsa credenza ingannato d'esser con costei stette furono adunque dopo cena i ragionamenti molti e lunghi non senza cagione tenuti ed essendo della notte una parte passata ella lasciato Andreuccio a dormire nella sua camera con un piccol fanciullo che gli mostrasse se egli volesse nulla con le sue femmine in un'altra camera se n'andò era il caldo grande per la qualcosa Andreuccio veggendosi solo rimaso subitamente si spogliò in farsetto e trassesi i panni di gamba e dal capo del letto gli si pose e richiedendo il naturale uso di dovere di porre il superfluo peso del ventre dove ciò si facesse domandò quel fanciullo il quale nell'un dei canti della camera gli mostrò uno uscio e disse andatela entro Andreuccio dentro sicuramente passato gli venne per ventura posto il piè sopra una tavola la quale dalla contrapposta parte sconfitta dal travicello sopra il quale era per la qualcosa capolevando questa tavola con lui insieme se n'andò quindi giuso e di tanto l'amò iddio che niuno male si fece nella caduta quantunque alquanto cadesse da alto ma tutto della bruttura della quale il luogo era pieno s'imbrattò il quale luogo a ciò che meglio intendiate e quello che è detto e ciò che segue come stesse vi mostrerò egli era in un chiassetto stretto come spesso tra due case veggiamo sopra due travicelli tra l'una casa e l'altra posti alcune tavole eran confitte ed il luogo da seder posto delle quali tavole quella che con lui cadde era l'una ritrovandosi adunque laggiù nel chiassetto Andreuccio dolente del caso cominciò a chiamare il fanciullo ma il fanciullo come sentito lebbe cadere così corse a dirlo alla donna la quale corsa alla sua camera prestamente cercò se i suoi panni verano e trovati i panni e con essi i denari li quali esso non fidandosi mattamente sempre portava addosso avendo quello a che ella di palermo si rocchi ad un perugin facendosi aveva teso il lacciolo più di lui non curandosi prestamente andò a chiudere l'uscio del quale egli era uscito quando cadde Andreuccio non rispondendogli il fanciullo cominciò più forte a chiamare ma ciò era niente perché egli già sospettando e tardi dello inganno cominciandosi ad accorgere salito sopra un muretto che quel chiassolino dalla strada chiudea e nella via disceso all'uscio della casa il quale egli molto ben riconobbe se n'andò e quivi invano lungamente chiamò e molto il dimenò e percosse di che egli piagnendo come colui che chiara vedea la sua disavventura cominciò a dire oh lasso me in come piccol tempo i ho perduti cinquecento fiorini e una sorella e dopo molte altre parole da capo cominciò a battere l'uscio ed a gridare e tanto fece così che molti dei circostanti vicini desti non potendo la noia sofferire si levarono ed una delle servigiali della donna in vista tutta sonnacchiosa fattasi alla finestra proverbiosamente disse chi picchia laggiù oh disse andreuccio oh non mi conosci tu io sono andreuccio fratello di madama fiordaliso al quale ella rispose buono uomo se tu hai troppo bevuto va dormi e tornerai domattina io non so che andreuccio né che ciance son quelle che tu di vai in buona ora e lasciaci dormir se ti piace come disse andreuccio non sai che io mi dico certo si sai ma seppur son così fatti i parentadi di cicilia che in si piccio il termine si dimentichino rendimi almeno i panni miei di quali lasciati voi ed io me ne andrò volentier con dio al quale ella quasi ridendo disse buono uomo el mi par che tu sogni ed il dir questo ed il tornarsi dentro e chiudere la finestra fu una cosa di che andreuccio già certissimo dei suoi danni quasi per doglia fu presso a convertire in rabbia la sua grande ira e per ingiuria propose di rivolere quello che per parole riaver non potea perché da capo presa una gran pietra con troppo maggior colpi che prima fieramente cominciò per cuoter la porta per la qualcosa molti dei vicini avanti destisi elevatisi credendo lui esser alcuno spiacevole il quale queste parole fingesse per noiare quella buona femina recatosi a noia il picchiare il quale egli faceva fattisi alle finestre non altrimenti che ad un can forestiere tutti quelli della contrada abbaiano addosso cominciarono a dire questa è una gran villania venire a questa ora a casa le buone femine e dire queste ciance ed è va con dio buono uomo lasciaci dormir se ti piace e se tu hai nulla a far con lei tornerai domani non ci dar questa seccaggine stanotte dalle quali parole forse assicurato uno che dentro dalla casa era ruffiano della buona femina il quale egli ne veduto ne sentito avea si fece alle finestre e con una voce grossa orribile e fiera disse chi è laggiù andreuccio a quella voce elevata la testa vide uno il quale per quel poco che comprender potè mostrava di dover essere un gran bacalare con una barba nera e folta al volto e come se del letto o da alto sonno si levasse sbadigliava e stropicciavasi gli occhi a cui egli non senza paura rispose io sono un fratello della donna di là entro ma colui non aspettò che andreuccio finisse la risposta anzi più rigida sai che prima disse io non so a che io mi tengo che io non vengo laggiù e deati tante bastonate quante io ti ve già muovere asino fastidioso ed ebriaco che tu devi essere che questa notte non ci lascerai dormire persona e tornatosi dentro serrò la finestra alcuni dei vicini che meglio conoscieno la condizion di colui umilmente parlando ad andreuccio dissero perdio buono uomo vatti con dio non volere stanotte essere ucciso costi vattene per lo tuo migliore l'onde andreuccio spaventato dalla voce di colui e dalla vista e sospinto dai conforti di coloro li quali gli pareva che da carità mossi parlassero doloroso quanto mai alcuno altro e dei suoi denar disperato verso quella parte onde il dì aveva la fanticella seguita senza saper dove s'andasse prese la via per tornarsi all'albergo e da sé medesimo dispiacendo per l'opuzzo che a lui di lui veniva disideroso di volgersi al mare per lavarsi si torse a man sinistra e su per una via chiamata la ruga catalana si mise e verso l'alto della città andando per ventura davanti si vide due che verso di lui con una lanterna in mano veniano li quali temendo non fossero della famiglia della corte o altri uomini a malfar disposti per fuggirgli in un casolare il quale si vide vicino pianamente ricoverò ma costoro quasi come a quello proprio luogo inviati andassero in quel medesimo casolare se ne entrarono e quivi l'un di loro scaricati certi ferramenti che in collo avea con l'altro insieme gli incominciò a guardare varie cose sopra quelli ragionando e mentre parlavano disse l'uno che vuol dire questo io sento il maggior puzzo che mai mi paresse sentire e questo detto alzata alquanto la lanterna ebbe rveduto il cattivello d'andreuccio e stupefatti domandare chi è là andreuccio taceva ma essi avvicinati gli si collume il domandarono che quivi così brutto facesse ali quali andreuccio ciò che avvenuto gli era narrò interamente costoro immaginando dove ciò gli potesse essere avvenuto dissero fra sé veramente in casa lo scarabone butta fuoco fia stato questo e da lui rivolti disse l'uno buono uomo come che tu abbia perduto i tuoi denari tu hai molto a lodare il dio che quel caso ti venne che tu cadesti ne potesti poi in casa rientrare perciò che se caduto non fossi vivi sicuro che come prima addormentato ti fossi saresti stato ammazzato e coi denari avresti la persona perduta ma che giova oggi mai di piangere tu ne potresti così riavere un denaio come avere delle stelle del cielo ucciso ne potrai tu bene essere se colui sente che tu mai ne facci parola e detto questo consigliatisi alquanto gli dissero vedi a noi è presa compassione di te e perciò dove tu vogli con noi essere a fare alcuna cosa la quale a fare andiamo e gli ci pare essere molto certi che in parte ti toccherà il valere di troppo più che perduto non hai andreuccio siccome disperato rispose che era presto era quel di seppellito uno arcivescovo di napoli chiamato messer filippo minutolo ed era stato seppellito con ricchissimi ornamenti e con un rubino indito il quale valeva oltre a 500 fiorin d'oro il quale costoro volevano andare a spogliare e così ad andreuccio fecer veduto la onde andreuccio più cupido che consigliato con loro si mise in via ed andando verso la chiesa maggiore ed andreuccio putendo forte disse l'uno non potremmo noi trovare modo che costui si lavasse un poco dove che sia che chi non putisse così fieramente disse l'altro sì noi siamo qui presso ad un pozzo al quale suole sempre esser la carrucola ed un gran secchione e andiene là e laverenlo spacciatamente giunti a questo pozzo trovarono che la fune vera ma il secchione era stato levato perché insieme deliberarono di legarlo alla fune e di collarlo nel pozzo ed egli laggiù si lavasse e come lavato fosse crollasse la fune ed essi il tirerebbe al suso e così fecero avvenne che avendo il costoro nel pozzo collato alcuni della famiglia della signoria li quali e per lo caldo e perché corsi erano dietro ad alcuno avendo sete a quel pozzo veniano a bere i quali come quegli due videro incontanente cominciarono a fuggire i familiari che qui vi venivano a bere non avendogli veduti essendo già nel fondo del pozzo andreuccio lavato dimenò la fune costoro assetati posti giù lor tavolacci e loro armi e lor gonnelle cominciarono la fune a tirare credendo a quella il secchion pian d'acqua essere appiccato come andreuccio si vide alla sponda del pozzo vicino così lasciata la fune con le mani si gittò sopra quella la qualcosa costor veggendo da subita paura presi senza altro dir lasciarono la fune e cominciarono quanto più poterono a fuggire di che andreuccio si maravigliò forte e se egli non si fosse bene attenuto egli sarebbe infine il fondo caduto forse non senza suo grandanno o morte ma pure uscitone e queste armi trovate le quali egli sapeva che i suoi compagni non avean portate ancora più si incominciò a maravigliare ma dubitando e non sappiendo che della sua fortuna dolendosi senza alcuna cosa a toccar quindi di liberò di partirsi ed andava senza sapere dove così andando si venne scontrato in quei due suoi compagni li quali a trarlo del pozzo venivano e come il videro maravigliandosi forte il domandarono chi del pozzo l'avesse tratto andreuccio rispose che non sapea e loro ordinatamente disse come era avvenuto e quello che trovato aveva fuori del pozzo di che costoro avvisatisi come stato era ridendogli contarono perché s'eran fuggiti e chi stati eran coloro che su l'aveano tirato e senza più parole fare essendo già a mezzanotte n'andarono alla chiesa maggiore ed in quella assai leggermente entrarono e furon all'arca la quale era di marmo e molto grande e con l'orferro il coperchio che era gravissimo sollevaron tanto quanto uno uomo vi potesse entrare e puntellarono e fatto questo cominciò l'uno a dire chi entrerà dentro a cui l'altro rispose non io né io disse colui ma entri via andreuccio questo non farò io disse andreuccio verso il quale a menduni costoro rivolti dissero come non ventrerai in fe di dio se tu non ventri noi ti darem tante d'un di questi palli di ferro sopra la testa che noi ti farem cadere morto andreuccio temendo ventrò ed entrandovi pensò seco costoro mi ci fanno entrare per ingannarmi perciò che come io avrò loro ogni cosa dato mentre che io penerò ad uscire dall'arca essi se ne andranno poi fatti loro ed io rimarrò senza cosa alcuna e perciò s'avvisò di farsi innanzitratto la parte sua e ricordatosi del caro anello che aveva loro udito dire come fu giù disceso così di dito il trasse all'arcivescovo e miselo a sé e poi dato il pastorale la mitra e i diguanti e spogliatolo infino alla camiscia ogni cosa di e loro dicendo che più niente bavea costoro affermando che esservi doveva l'anello gli dissero che cercasse per tutto ma esso rispondendo che non trovava e sembianti facendo di cercarne alquanto gli tenne in aspettare costoro che d'altra parte erano sì come lui maliziosi dicendo pur che ben cercasse preso tempo tiraron via il puntello che il coperchio dell'arca sostenea e fuggendosi lui dentro dall'arca lasciaron racchiuso la qualcosa sentendo Andreuccio quale egli allora divenisse ciascun se il può pensare egli tentò più volte e col capo e con le spalle se alzare potesse il coperchio ma in vano si faticava perché da grave dolor vinto venendo meno cadde sopra il morto corpo dell'arcivescovo e chi allora veduti gli avesse malagevolmente avrebbe conosciuto chi più si fosse morto o l'arcivescovo o egli ma poi che in sé fu ritornato dirottissimamente cominciò a piangere veggendosi quivi senza dubbio all'un dei due fini dover pervenire o in quella arca non venendovi alcuni più ad aprirla di fame e di puzzo tra vermini del morto corpo convenirgli morire o venendovi alcuni e trovandovi lui dentro siccome ladro dovere essere appiccato ed in così fatti pensieri e doloroso molto stando sentì per la chiesa andar genti e parlare molte persone le quali siccome egli avvisava quello andavano a fare che esso coi suoi compagni avevano già fatto di che la paura gli crebbe forte ma poi che costoro ebbero l'arca aperta e puntellata in question caddero chi vi dovesse entrare e niuno il voleva fare pur dopo lunga tencione un prete disse che paura avete voi credete voi che egli vi banuchi li morti non mangia gli uomini io ventrerò dentro io e così detto posto il petto sopra l'orlo dell'arca volse il capo in fuori e dentro mandò le gambe per doversi giuso calare Andreuccio questo veggendo in pie elevato si prese il prete per l'una delle gambe e fei sembianti di volerlo giù tirare la qualcosa sentendo il prete mise uno strido grandissimo e presto dall'arca si gitò fuori della qualcosa tutti gli altri spaventati lasciata l'arca aperta non altrimenti a fuggir cominciarono che se da centomila diavoli fossero perseguitati la qualcosa veggendo Andreuccio lieto oltre a quello che sperava subito si gitò fuori e per quella via onde era venuto se n'uscì della chiesa e già avvicinandosi al giorno con quello anello indito andando all'avventura pervenne alla marina e quindi al suo albergo si rabbattè dove i suoi compagni l'albergatore trovò tutta la notte stati in sollecitudine dei fatti suoi ai quali ciò che avvenuto gli era raccontato parve per lo consiglio dell'oste loro che costui incontanente si dovesse di Napoli partire la qualcosa egli fece prestamente e da Perugia tornossi avendo il suo investito in uno anello dove per comprare cavalli era andato di Napoli Grazie a tutti.